Attenzione Serginio, viene avanti ancora Sergio, poi ancora Scevchenko, Arpione al pallone, viene fermato ancora ma c'è ancora la reazione, la reattività di Gattuso, pallone dentro per Pippo, tiro! Pippo, 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 alta tensione, vai, Pippo mio, 1-0 per i ragazzi, 1-0 per i ragazzi, vai, vecchio cuore, Pippo, lui Costa, lui Costa, che passano, eccolo là, ed eccolo là, alta tensione mia, alta tensione mia, 1-0 per i ragazzi, al diciassettesimo, Inzaghi, 1-0 per i ragazzi, con un pallone, da fermo Carlo, guarda, che bello, che spettacolo, vai Milan, perché lo meritavi!